E' nato il 18 febbraio del 1922 a Cattolica Ereclea. Quando era ancora giovane i contadini lo portavano sulle spalle in giro per il paese come fosse stato un santo. Aveva 21 anni, era appena tornato dal militare, si incontrò con Giuseppe Spagnolo e altri contadini. Insieme fondarono il Partito Comunista e la Camera del Lavoro. Francesco Renda era l'intellettuale, lo studente universitario che dava voce ai contadini, spagnolo quello che li organizzava. Cominciarono le occupazioni delle terre, poi ci furono le prime lezioni libere dopo un ventennio di repressione fascista, spagnolo, fu eletto sindaco Renda, deputato regionale. Lo fece per due legislature, fu anche senatore, poi storico di professione, autore di numerosi libri, tra i più noti La storia della mafia e La biografia del bandito Giuliano. Oggi è in libreria la sua autobiografia politica, edita da Sellerio. Sono andati a rivolgere gli auguri di compleanno il viceministro Angelo Capodicase, il sindaco Aquilino, alcuni dirigenti dei DS di Cattolica Ereclea, tra cui il dottore Termine. Anche io rivolgo al professore Francesco Renda i più sentiti auguri di compleanno e colgo l'occasione di ringraziarlo pubblicamente per avermi dato stimoli e suggerimenti per fare la ricerca storica su Paolo Buongiorno, dopo aver fatto quella su Giuseppe Spagnolo. Anche stavolta il professore Renda mi ha dato un notevole aiuto. Tra le altre cose, ecco il ritratto che mi ha fatto in un'intervista del capo mafia storico di Cattolica Ereclea, Don Nino Manno. Un leader mafioso che non faceva spettacolo, dice Renda, non partecipava alla vita pubblica, non lo si vedeva in piazza o per le vie del paese, non lasciava sapere come vivesse e cosa facesse. Lo ricordo come una sorta di provenzano antelitteram continua, per la moderazione che imprimeva la sua direzione ufficiale della vita mafiosa.